in questo video vedremo insieme come funziona l'active info display di volkswagen e i comandi sul volante che lo comandano appunto e che comandano anche altre funzioni partiamo dalla parte sinistra dalla razza sinistra del volante dove troviamo tutti i comandi inerenti a assistenti di guida prevalentemente cruise control in questo caso adattivo perché vediamo qua la macchina con le righettine che ci indicano la distanza e appunto sotto invece il comando grigio ci permetterà di regolare il volume la radio o di qualsiasi altra cosa che stia suonando riguardo agli assistenti alla guida vi rimandiamo un altro video dove verranno spiegati nel dettaglio mentre invece qui ci concentriamo appunto sulla strumentazione digitale che è disponibile su questa su quest'auto e appunto sulla parte destra sulla razza destra il volante con i comandi che ci permettono di gestire questo schermo allora partendo appunto sulla dalla razza di destra troviamo il tasto per i comandi vocali che basterà premere per dire quasi per impartire un qualsiasi comando la vettura un tasto con la scritta view che ci permetterà di andare a cambiare quella che è l'interfaccia e la grafica del display davanti a noi quindi una grafica molto pulita con la velocità o con qualsiasi altra informazione noi vogliamo mettere ovviamente le funzioni le possiamo scorrere tramite il selettore su e giù quindi andiamo a vedere l'autonomia la vista di insieme il consumo trip temperatura dell'olio oppure in questo caso nella vista di insieme abbiamo una serie di parametri molto utili proseguendo con il tasto view abbiamo a disposizione un'altra un altro tipo di grafica che ci riassume anche qui vari dati della vettura autonomia i consumi e le medie e anche cosa sta suonando nel caso ci sia qualcosa che che stia suonando abbiamo comunque l'indicazione dei fari e degli assistenti alla guida nella parte alta e nella parte bassa rischiacciando il tasto view arriviamo alla nostra vista classica quella coi quadranti a cui tutti siamo abituati e passando dal display dell'infotainment che in questo momento non si vede come abbiamo fatto vedere nel video dedicato al discovery media che in questo caso equipaggia questa vettura ci sarà possibile decidere cosa vedere all'interno dei due quadranti quindi in questo caso il tempo che la macchina è stata accesa dall'ultimo rifornimento di carburante e quanti chilometri ha fatto oppure l'autonomia di qua e la media dei consumi nella parte sinistra ovviamente ripeto possiamo scegliere noi tra una miriade di funzioni e di possibilità come gestire al meglio il nostro active info display ritornando alla razza destra i pulsanti di sinistra e di destra appunto ci permettono di cambiare quello che è proprio il parametro delle informazioni che stiamo vedendo di passare dai dati di marcia che scorriamo andando su e giù tra tutte le varie opzioni se ci spostiamo a destra andiamo ad esempio la velocità agli assistenti quindi ci dirà cosa è attivo se attivo l'assistente di corsia se è attivo in questo caso c'è l'assistente di corsia il cruise control adattivo il blind spot assist e lo potremo selezionare e gestire direttamente da qui andando ancora a destra troviamo l'audio quindi ci dirà cosa sta suonando e potremmo direttamente cambiare canzone senza distrarci dalla strada e guardare direttamente questo schermo il telefono quindi potremmo effettuare o rispondere ad una chiamata semplicemente premendo qualche tasto sul volante senza ulteriori distrazioni appunto e lo stato del veicolo quindi in questo caso accendere le luci o qualsiasi dato ci ci viene dato dalla vettura in questo caso siamo tornati ai dati di marcia ovviamente tutte queste diciamo possibilità di visualizzazione che sia gli audio gli assistenti o i dati di marcia hanno a loro volta un sottomenu a cui è possibile accedere appunto usando i tasti a freccia su e giù in questo caso andiamo su audio ci fa vedere le possibilità quindi radio fm radio digital audio cd scheda di memoria usb stessa cosa avviene nel telefono in questo caso non è collegato nessun telefono ma se lo fosse ci farebbe vedere come andare a comporre un numero o la lista chiamate l'activ info display in questo caso equipaggiato con un discovery media non al navigatore di serie se no ci sarebbe stato possibile andare a vedere anche la mappa tutto schermo del navigatore ma questo lo vedremo in un'altra in un altro video dedicato proprio ad un display che ha la funzione anche di navigazione è un sistema sicuramente innovativo è un sistema che richiede un po di pratica ma è molto importante per la sicurezza di marcia perché senza distogliere lo sguardo dalla strada ci permette di ad accedere ad una miriade di funzioni che se no non si potrebbe non si potrebbero consultare in maniera così rapida